Ciao a tutti cagnacci, benvenuti in un nuovo video, come vedete ho addosso la maglietta unta unta calda calda dello zio Bob Mi è arrivata questa mattina che in un pacco dove c'erano i mini stemmini La spilletta E gli adesivi con Who is Bob Allora, vi metto il link, prima di spiegarvi che cos'è Del negozio, del sito, qui sotto in descrizione Quindi se volete vedere liuzosfactory.com, qui sotto là Ma se cliccate qui, capirete perché sono contento che mi è arrivata la maglietta unta unta calda calda dello zio Bob Bob è uno dei più interessanti canali di Youtube Uno dei più eclettici, uno dei più divertenti, uno dei più interessanti, è veramente tutto Allora, andate qui, e poi vi dico Cercate inizialmente gli episodi di Cucina Zodica Una serie che Bob ha fatto con i suoi amici dove cucinano porcate Ci fanno veramente vorrire delle risate con delle scene pazzesche Veramente da zodici Io andrò a Milano a sfidare Bob appena avrò il tempo Appena avrò due spicci Andrò a Milano a sfidarlo perché Pensa di poter mangiare più del grandissimo del livello Signore, il re degli arrosticini Non arrivare, però Bob lo scoprirà a sue spese Poi vi consiglio un video Ve lo dovete vedere per forza Il video è un video che parla Cioè vi insegna come mangiare il pollo con le mani Allora, a parte che vi verrà una voglia di mangiare il pollo Che è incredibile, io l'ho proposto ai miei amici Dopo che avevo visto il video Ma poi riederete come è matti E alla fine c'è la parte interessante del canale Che sta arrivando in questi giorni Gli ultimi video sono tutti questi Sulla grafica Cioè ragazzi, vi dovete guardare sto canale Che cazzo, se ve lo dice il grandissimo è consigliato Poi se vi volete iscrivere, lo fate Se non vi volete iscrivere, non lo fate Ma dovete guardarlo Perché secondo me se lo guardate, vi iscrivete C'è anche la recensione del portafoglio Brutto figlio di puttana Quello di Levi Altra comunicazione importante E' che siccome il 27 marzo uscirà il film di Walter Beltroni su Enrico Berlinguer E io ci tengo che andrei tutti quanti a guardarlo questo film Perché i youtuber italiani dicono che il cinema italiano fa schifo Blah 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 Cazzate su cazzate su cazzate per prendere applausi Il grandissimo Delimello vi dice che da un bel po' Che il cinema italiano ha tante belle cose da offrire Questo film su Enrico Berlinguer sarà una di queste cose buone Quindi voi andrete al cinema perché io vi dirò prima di andare al cinema Chi è Enrico Berlinguer Così sarete spinti a vedere il film La biografia che Walter Beltroni ha fatto Non so come può essere il film a livello tecnico Ma se un po' un po' uno è capace di raccontare una storia con una cinepresa La storia di Enrico Berlinguer è già affascinante di per sempre E adesso ultima comunicazione Rosicate rosicate tutti voi che mi avete detto Tu pretendi di andare alle fiere Gladys ma che ti pensi di essere? Non sei un personaggio pubblico? Tacete miserabili Zitti zitti Il grandissimo Delimello è stato chiamato come ospite Cioè non mi offro il biglietto Ospite Ufficiosamente si aspettano conferme ufficiali Alla Teramo Comics La fiera del fumetto della mia città Teramo Ci sarà l'8 e 9 il 10 maggio Vi lascerò qui sotto anche il sito per vedere Se vorrete tenervi aggiornati Per vedere un po' dov'è Come funziona eccetera eccetera Qui sotto il sito della Teramo Comics E farò una conferenza su One Piece Oltre probabilmente a partecipare un po' al Cine Forum Quindi mi troverete lì venerdì, sabato e domenica 8, 9 e 10 maggio Se siete abruzzesi In quei giorni avrete la possibilità di toccare con le vostre mari Cioè se venite alla Teramo Comics mi potrete stringere la mano Ditemi una fiera del fumetto O un evento in Italia dove voi potreste stringere la mano Al grandissimo Delimello Non c'è solo la Teramo Comics E ci sarà Se proprio non mi interesso io Penso che stiano chiamando ancora degli ospiti Sicuramente ci sarà Carmine Di Giandomenico Uno dei disegnatori della Marvel Che farà delle cose pazzesche Ma sarete aggiornati sul sito E comunque quando sarà ufficiale Sulle locandine La presenza del grandissimo Delimello Bam! Ve l'ho buttata Ve l'ho presa Grazie Allo zio Bob Per la malletta Punta punta Ciao